La regione Puglia dichiara guerra e compro oro. Negli anni della crisi, questi negozi che promettono la supervalutazione di gioielli e oggetti preziosi sono proliferati facendo affari d'oro e speculando sulla disperazione di chi, pur di portare a casa poche decine di euro, ha impegnato persino le fedi nuziali. Storie di disperazione che vi abbiamo documentato in diversi servizi, comeppure abbiamo denunciato che a gestire questi negozi si sospetta la mano della mafia, che li utilizzerebbe come lavatrici autorizzate di denaro sporco frutto di traffici illeciti o per ricettare oro e preziosi rubati. Ebbene, in Puglia e compro oro presto non potranno essere più di uno ogni 20.000 abitanti, lo promette il presidente del Consiglio regionale Onofro Introna, che annuncia la discussione del provvedimento in aula alla ripresa delle attività a gennaio 2014. Questa è una battaglia per la vita, proclama Introna e aggiunge. Vogliamo salvare persone, famiglie, redditi, oggetti cari, ricordi. Introna fa appello ai consiglieri di ogni schieramento per un alt bipartisan ad un fenomeno che, al pari delle sale slot, rappresenta la spia di una povertà sempre più dilagante e disperata.